Il GIP del Tribunale del Capoluogo Adriatico Gianluca Sarandrea ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare a carico di Valentino Dinunzio, il 27enne di Manopello affetto da disturbi psichici, in carcere a Pescara dal 25 settembre scorso per aver ucciso la madre Maria Teresa di Giamberardino a Coltellate in una domenica di ordinaria follia. Il GIP pescarese ha dato il nulla osta al trasferimento del giovane in una struttura carceraria idonea al recupero di persone con problemi di natura psichiatrica, problemi che erano da subito emersi nelle indagini su una morte tanto efferata quanto immotivata. Il ragazzo a detta del padre soffriva da tempo di disturbi mentali ed era affetto da depressione. Problematiche che viste con il senno del poi erano lampanti anche nei video che Valentino aveva pubblicato l'anno precedente alla tragedia sul famoso canale di condivisione dei video su internet YouTube. Nei cortometraggi diretti ed interpretati da Valentino, ai quali, ignaro di ciò che sarebbe accaduto qualche tempo più tardi, partecipò anche il padre Fernando, il ragazzo dice di essere assetato di sangue e di voler scegliere una vittima della sua furia omicida a caso tra la folla. Nessuno poteva immaginare che quel personaggio della fantasia horror potesse tragicamente rivelarsi vero. Quella domenica pomeriggio di settembre fu proprio Valentino ad aprire la porta ai carabinieri ed a consegnarsi ai militari dicendo di aver ucciso la madre perché era arrabbiato.